io voglio cambiare il lavoro pronto si si è rete versilia forse lei voleva la fonda vabbè tanto ormai chiamano tutti qui per la sponsorizzazione dei rioni bicca no l'agenzia di pompe funebri mi sembra esagerato va bene lo so che a torre del lago non c'è andata un'anima ma le bare no ma guardi no grazie chiami la fondazione a questo punto ok grazie scusi ho un'altra chiamata rete versilia adesso che uno come me debba pure stare in attesa io lo trovo eccessivo credo chi parla scusi emilio ma come chi parla chi parla scusi si qualifichi pier silvio le dice niente ma forse qualcosa ma non è d'attualità va bene allora lei è un ignorante comunque parliamo di una cosa molto seria si io in qualità di me stesso medesimo e non si mi scende non è in dubbio si avevo deciso di comprare tutto l'ambaradan nostro torre del lago tutto a di torre del lago si è anche lei per il rione ma senta ma quanto vuole tanto si parla di schei eh quanto sgancia allora ho visto persone come lunardini mungai buratti lombardi silicani e neri io chiedo solo un fax con le foto delle nipoti no mi scusi ma questo non si può fare ora va bene che per animare i rioni ci vuole un po di quindi quindi per voi questi soldi non sono importanti no però senta il bunga bunga un conto è con le nipoti dei presidenti esteri e un conto è con i nostri sindaci allora sarà ancora più facile guardi forse è meglio per evitare incidenti ascolta chi è che comanda l'ambaradan lì si può parlare con una persona seria guardi io provo a metterla in attesa però forse vi risponde la segretaria in attesa ma lei sta scherzando no io sono assolutamente serio ma con chi pensa di parlare con non lo so mi dica lei che qualifica adesso io veramente voglio le generalità di questa di questo ragazzino io punto 456 solo donne ai rioni segni va bene cavaliere punto 457 va bene va bene va bene cavaliere senta approviamola approviamola va bene allora adesso cerchiamo il titolo ok il titolo che potrebbe essere il burla silvio i rioni di burla silvio va bene perfetto cavaliere perfetto benissimo la ringrazio dell'attesa e buona serata arrivederla se ha bisogno chiami a presto grazie grazie